Siamo qua proprio con mister Morelli, Antonio, una stagione bellissima del Quotronei, il Quotronei è partito da Croce Valanidi con una vittoria contro l'Aurora, chiude a Croce Valanidi con una sconfitta con la Regione di Erranea che oggi, a mio avviso poi, non so, visto dagli spalti, una Regione di Erranea che ha dato un po' di filo da torce al Quotronei. E se ha vinto sicuramente ha dato filo da torce, ha giocato una buona gara, ma noi siamo stati qua forse un po' con la testa, pensando forse che eravamo già nei play-off, la finale, quindi forse abbiamo concesso qualcosa in più, però il calcio ci sta, ma siamo pronti per affrontare questa prima semifinale di play-off. Quello stagione che tutto sommato il Quotronei ha onorato la grande, stando sempre nei piani alti della classifica e i complimenti vanno anche alla società e al mister che sta saputo fare con questi ragazzi. Sì, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questa stagione, siamo stati sempre con i partieri alti della classifica, siamo stati sempre nelle primissime posizioni, abbiamo fatto anche la finale di Coppa Italia, devo dire veramente bravi ai ragazzi, e adesso ci andiamo a giocare, ripeto, questo primo spareggio con l'Acri e ci prepareremo bene la prossima settimana.